Arrivano intanto i ragazzi della camioneta Junior Leader con il numero 68 Jamie McKenney Oggi il caccia dei due inglesini Centro Scullo Centro Scullo Genova Centro Scullo Centro Scullo Centro Scullo arriva Pecchini e chiude i rispetti 51 e 68 leader resta leader la casaca verde il numero 60 la casaca 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 Grazie a tutti.